Chiuso Petagna, El Sharawi ha la caccia del pallone, ancora Petagna, numero El Sharawi, la tiene El Sharawi sinistro, brutto, brutto il sinistro ma ha sbagliato il controllo Chiusa ma vediamo, Niang al trasferimento anche lì vedremo, invece Astori, parlavamo di mercato, no, in difesa siamo a posto, queste le parole ma su Petagna incedibilissimo Direttamente confida nel recupero dei difensori di Tolari Galliani, difesa molto diversa da quella che si è vista ieri, poi abbiamo visto l'errore al momento dello stopper